Buonasera a tutti ragazzi, buongiorno a tutti sul mio canale. Oggi, il 17 agosto, ricorre l'anniversario nel mese 1717 della battaglia di Belgrado, nella quale il principio Eugenio di Savoia, comandante di forze asburgiche, quindi imperiali, riesce a liberare Belgrado dai turchi ottomani che la occupavano. Eugenio di Savoia, uno dei più importanti condottieri del Settecento, uomo di grandissima cultura militare, italiano, principe di casa Savoia, cresciuto alla corte di Versailles, la cortese del re di Francia, e dopo appunto famoso più che altro per il suo servizio. Il re di Francia non volle averlo come suo comandante, allora lui si rivolse alla corte di Vienna e infatti ebbe ciò che meritava, appunto ebbe un enorme successo come comandante delle forze asburgiche, soprattutto appunto nelle battaglie contro i turchi che da secoli insidiavano i confini meridionali dell'impero. Dunque, oggi però non vorrei parlarvi appunto dei successi, quanto questo anniversario mi ha fatto venire in mente un episodio abbastanza famoso, soprattutto per la sua comicità, diciamo, se non fosse una tragedia costata la vita a migliaia di persone, è la battaglia di Karanchebes. Siamo sempre nell'ambito della secolare rivalità, della secolare nemicizia tra impero ottomano ed impero sburgico. Siamo nel 1788, l'assedio di Vienna è stato un secolo prima, quindi appunto i turchi non si erano mai più spinti così tanto a nord, nel loro tentativo di occupare l'Europa, e in questo momento si trovano nella regione del Banato, siamo una regione storica che si trova all'incirca tra le attuali Ungheria, nord della Serbia e Romania occidentale. Uno dei titoli dell'imperatore sburgico era anche Gran Voivoda di Serbia e Ibano di Temes, quindi appunto la regione è un po' questa qua. E appunto la zona dello scontro è il piccolo villaggio di Karanchebes. Un episodio, in realtà lo scontro non è austro-turco, ma è tutto interno alle forze imperiali. Vi spiego come andò la cosa. Allora, bisogna considerare prima di tutto che la zona era presidiata da circa 100.000 soldati imperiali degli Asburgo. L'imperatore al tempo era Giuseppe II, monarca illuminato, famosissimo imperatore riformista, figlio della altrettanto celebre, forse ancora più famosa, Maria Teresa d'Austria, fratello della regina Maria Antonietta di Francia, quella che verrà poi decapitata qualche anno più tardi, dai rivoluzioni francesi. E dunque, un reparto di cavalleria, in particolare Ussari, questa specialità della cavaliere leggera asburgica, formata prevalentemente da ungheresi, quindi appunto cavaliere leggera atta appunto a piccole azioni di disturbo e soprattutto esplorazioni, andò appunto in avanza scoperta. Decise di passare il vicino fiume, Timish, e di andare appunto a cercare un po' a vedere di trovare le posizioni turche di avanguardia. Non trovarono i turchi, questi cavalieri, ma trovarono un accampamento di Rom, e si misero d'accordo per acquistare un'ingente quantità di liquori, che bevero sul posto, restando abbastanza brilli, diciamo così. Poco tempo dopo arrivò un reparto di fanteria austriaca, quindi seguendo la cavalleria, notando che questi non tornarono, allora anche la fanteria un po' si era mossa, un piccolo contingente ovviamente. E tra l'altro appunto ricordiamo l'enorme multietnicità delle forze imperiali da sempre, non è un fatto che è avvenuto solo, come avevamo già parlato nel primissimo video, è un fatto avvenuto solo nel corso della prima guerra mondiale da sempre, l'impero svolgico era un impero multietnico. Dico svolgico perché ai tempi era il sacro romano impero germanico, non era ancora né impero d'Austria né impero austro-ungarico. Impero d'Austria nasce intorno al 1804-1806, e l'impero austro-ungarico nasce nel 1267, ma questa è un'altra storia. E quindi appunto in questi reparti di cui vi parlo possiamo trovare l'austriaco come l'ungherese, come diceva appunto la maggior parte dei cavalieri, della cavaliere leggera appunto sburgica degli Ussari erano ungheresi, c'erano dei polacchi, dei lombardi addirittura, del Ducato di Milano e di Mantova, che appunto erano sottoposti all'autorità imperiale, c'erano appunto dei rumeni lì della zona, dei serbi, quindi insomma un esercio decisamente variegato. Allora appunto la fanteria arrivò, raggiunse i cavalieri, notò che questi stavano gozzovigliando in compagnia dei rom, e chiesero appunto di potersi unire, e di chiesero delle cuore anche loro. I cavalleggeri non vollero, ubriachi, marci, non vollero appunto condividere le loro scorte di alcol, e anzi addirittura qualcuno di loro ebbe la meravigliosa idea di urlare i turchi, i turchi, per spaventare appunto i fanti e mandarli via. Non solo si misero a strillare, ma qualcuno addirittura sparò in aria per rendere la cosa ancora più convincente. Ebbene i fanti si convinsero, e quindi attaccarono i cavalieri ungheresi, credendo appunto di avere davanti dei nemici travestiti. I cavalieri vistisi attaccati, credevano che non solo dovessero difendersi, perché questi ci attaccano, ma addirittura si misero a credere che fossero stati gli altri, fossero appunto i fanti, a essere dei turchi travestiti da austriaci. E quindi si creò una babele terribile, una vera piccola battaglia. Appunto il reparto, poi si erano anche ingrossati, i reparti vicini richiamati dalla confusione arrivarono, si trovarono davanti a questo scontro, e quindi dissero, buttiamoci, qua sicuramente c'è il nemico, quegli erano andati a cercare, quei cavalieri al tempo erano andati a cercare il nemico, l'avranno anche pescato, e quindi sono finiti in un'imboscata. E quindi si fece uno scontro enorme, reso ancora più confuso appunto dalla diversità delle lingue che non si capivano. Tanto che addirittura la cosa peggiorò ancora quando arrivò un ufficiale a cavallo, un ufficiale tedesco, con un reparto appunto che portava con sé, un suo stato maggiore, questo appunto arrivò cavalcando, gridando halt, halt, appunto in tedesco, fermatevi, stop. E quelli credevano di aver sentito Allah, Allah, e quindi credevano di avere appunto di fronte la cavalleria turca, e quindi ancora peggio, si iniziarono a sparare contro l'ufficiale il suo seguito, quelli si difendevano a sciabolate, e un ufficiale addirittura, un generale d'artiglieria, sulle alture vide la confusione, immaginò che quella fosse la battaglia, e quindi ordinò i suoi cannoni di sparare. Lo stesso imperatore, Giuseppe II d'Asburgo Lorraine, era lì presente, era presente appunto nelle vicinanze, e nella confusione venne disarcionato, cade in un fiume, quindi rischiò addirittura l'imperatore di morire, per colpa di una idiozia, di un episodio che nella storia militare è probabilmente unico, soprattutto nella sua portata, perché alla fine di tutto questo, di questo accopparsi di, come vi dicevo, di milanesi, di rumeni, di ungheresi appunto, tedeschi e compagnia bella, restò sul campo, restarono sul campo, 10.000 uomini su 100.000, e dopo appunto la cosa finalmente finì, i reparti si ritirarono, finalmente si è reso conto che si stavano ammazzando tra di loro, e lì i turchi non c'era neanche l'aria, si andarono via, e i turchi arrivarono, qualche giorno dopo appunto, loro erano ancora abbastanza indietro nella zona, non erano ancora arrivati da camparsi presso il fiume, e quindi appunto arrivarono qualche giorno dopo e trovarono sul campo 10.000 morti imperiali, senza avere minimamente idea di chi li avesse uccisi, cioè noi non siamo stati, noi ottomani non siamo ancora arrivati, che cosa è successo, e quindi una cosa pazzesca, cioè allucinante, cioè indescrivibile, e quindi appunto come dire che non sempre gli austriaci ebbero un padre Marco Daviano e un Jan Sobieski, come nell'assedio di Vienna del 1683, che appunto aveva salvato la città dall'ultimo grande assedio turco, perché Vienna fu assediata dagli ottomani ben due volte, una volta nel 1500, e ancora da solimani magnifico, il famoso sultano turco, e appunto una volta successiva nel 1683, e i principali difensori appunto della città furono il padre francescano di origine friulana, Marco Daviano, appunto Aviano, un villaggio presso Pordenone, e ricordiamo appunto come l'imperatore fosse anche duca del Friuli, anche se la maggior parte della regione fosse sottoposta alla Serenissima Erpulche di Venezia, che comunque aiutava l'impero appunto nel contrastare l'avanzata turca, e appunto Jan Sobieski, re di Polonia, granduca di Lituania, che fu decisivo per la sconfitta dei turchi, poiché con la sua cavaleria pesante, formata da 3000 ussari, appunto quando ancora gli ussari erano gente serie, non bevoni del secolo successivo, appunto i famosi ussari alati, che avevano, erano chiamati così perché avevano una armatura pesante, fornita di due grandi ali, proprio di legno e vere piume, che li facevano sembrare molto più grandi, avevano un effetto psicologico, terrorizzavano il nemico durante queste cariche, poi mettendo conto che erano in tanti 3000 cavalieri, che scendevano da una montagna da dove nessuno se li aspettava, e facendo tremare la terra, l'effetto psicologico sui turchi fu enorme, e quindi appunto la battaglia fu vinta anche grazie a questo. Beh, questi personaggi del secolo precedente non c'erano, non c'era neanche un Eugenio di Savoia, come nel 1717, qua eravamo appunto come dicevano nell'88, e erano rimasti solo un Giuseppe II che cade da cavallo, e rischia di morire annegato, e vari ufficiali impazziti, e questa è un po' la storia della battaglia di Karanshebes, attualmente si trova nella Romania occidentale. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguito, vi raccomando come sempre, se i video vi interessano, gli argomenti vi piacciono, di iscrivervi al canale, lasciare un like, per essere sempre aggiornati, vi lascio come sempre in descrizione il link della nuova pagina Instagram del canale, vi do appuntamento la prossima volta, e vi auguro una buona serata, ciao, a presto.